Era facilmente preventivabile già da diverse settimane che alla pausa pasquale, prima dell'ultimo turno, il calcio a 5 di Serie B arrivasse praticamente con tutti i verdetti già emessi. La terranovese si gode il riposo, la San Gio invece già pensa dopo la retrocessione, giunta matematicamente sabato scorso al ritorno nel massimo palcoscenico regionale, dal quale gli azzurri erano stati per anni protagonisti prima di raggiungere la finale playoff nazionale con Orvieto. A Terranova dunque è possibile pensare al futuro, che darà adito a profonde riflessioni, visto che la squadra è destinata comunque a subire una rivoluzione, data inizialmente dalla quasi certa partenza di Righeschi, ma anche da alcuni giocatori che per anagrafe potrebbero lasciare il calcio a 5 giocato. Di certo, questo campionato è evidenziato peraltro anche come la categoria sia assolutamente al di sopra, in generale, delle possibilità economiche del nostro Valdarno. Ed il confronto con realtà, vedi la stessa Carmagnola, che spendono poco meno di 300 mila euro per l'anno, 10 volte il budget di ogni squadra del nostro territorio, è quasi imbarazzante, con in più la possibilità di riforma della BID da 6 a 4 gironi ed un inevitabile innalzamento del valore tecnico generale. Mesi di riflessione sul futuro attendono dunque la dirigenza biancorossa. Si partirà inizialmente dalla ricostruzione di questo collettivo, tutto il resto seguirà a livello temporale.